salve a tutti ragazzi benvenuti o bentornati su zero files in questo video vedremo come scaricare pkx mobile e come utilizzarlo al meglio perché si pkx è uscito in formato apk quindi non bisogna avere per forza un pc per poterlo utilizzare e questo è davvero un gran giorno per l'editing dei salvataggi pokemon ho scelto di fare questo video adesso perché comunque la pk è già uscito da qualche mese però era davvero inutilizzabile mentre adesso penso che il progetto sia abbastanza maturo per poterci dedicare un video e chi non sapesse pkx appunto un programma che permette di editare i file salvataggi pokemon in modo tale da creare pokemon principalmente ma può fare altre innumerevoli cose se volete vedere come funziona da pc che diciamo è molto più efficiente e completo come programma trovate il tutorial in alto a destra vediamo subito invece pkx mobile come scaricarlo prima di tutto ho messo dei link che trovate in descrizione uno che porta al progetto ufficiale di github dove potete scaricarlo appunto dalla pagina ufficiale però essendo github poco intuitivo specialmente per la gente poco esperta che non conosce questa piattaforma allora ho deciso anche di caricarlo nel canale telegram ufficiale di zero files prima in tutto entrate nel canale telegram che vi lascio in descrizione e una volta fatto ciò cliccate i tre puntini in alto a destra e poi su cerca una volta fatto ciò digitate pkx adesso vi appariranno sei risultati quindi voi cliccate uno di sei e una volta fatto ciò andate sul risultato apk pkx mobile una volta cliccato vi porterà direttamente alla pagina corretta dove potete scaricare pkx e qua voi troverete una freccina che punta verso il basso cliccateci su e partirà il download a download completato vedrete l'icona come la vedrò io ovvero con questa sorta di foglio e dovrete cliccarci su una volta cliccato vi apparirà questa finestra se non vi appare perché non avete consentito a telegram di scaricare gli apk andate sulle impostazioni e consentita telegram di installare le applicazioni vi basterà seguire le tendine che vi farà apparire il vostro smartphone quindi è una procedura molto semplice ecco una volta arrivati a questo punto ovviamente clicchiamo su installa e la nostra applicazione verrà installata correttamente dopodiché la dovremo aprire e una volta aperta ci apparirà questo menu un po spoglio perché ripeto ragazzi è un progetto molto giovane e clicchiamo su cache new save qui consentiamo l'accesso ai contenuti multimediali ma come presto vedremo non sarà abbastanza questo perché perché se proviamo ad aprire un file salvataggio qualsiasi apparirà questo errore questo perché perché noi abbiamo dato l'accesso ai file multimediali ma i file che vogliamo utilizzare non sono file multimediali quindi per sviare a ciò dovremo andare nelle impostazioni quindi una volta che siamo nelle nostre impostazioni dobbiamo cercare l'elenco delle applicazioni e la procedura può variare da dispositivo a dispositivo quello che vi consiglio appunto cercare elenco app oppure scrivere app comunque voi dovrete arrivare qui dove trovate la lista delle vostre applicazioni una volta arrivati che cercate pkx dalla barra di ricerca oppure scorrete tanto è in ordine alfabetico e poi ci cliccate su una volta fatto ciò andiamo su permessi di questa finestra e poi nelle consentite cioè memoria file multimediali ci clicchiamo su e clicchiamo su consenti la gestione di tutti i file in questo modo una volta che torneremo sul nostro pkx e clicchiamo su cash new save se apriamo il nostro file salvataggio di pokemon nero 2 ce lo aprirà correttamente la cosa molto carina è che possiamo aprire più file contemporaneamente in modo da poterli modificare quindi io qua posso mettere anche pokemon art gold posso anche mettere pokemon platino e poi me li posso modificare ognuno a tempo debito ecco per selezionare un file salvataggio ci basterà cliccarci sopra per esempio modificherò pokemon nero 2 e poi clicchiamo su open selected save come possiamo vedere qua infatti vediamo che già selezionata la voce box infatti da qui possiamo scorrere tutti i pokemon che sono nel box e questo ci permette appunto di vedere tutti i pokemon che ci sono poi abbiamo anche la funzione party che ci permette di vedere i pokemon che sono in squadra e poi che ci ecco qui possiamo selezionare ovviamente max money che ci dà il denaro massimo e infatti qui ci dice quello che avevamo prima di denaro e quello che abbiamo adesso e poi fill in venturi questo ci darà qualsiasi tipo di strumento e non lo userò perché secondo me è un trucco molto aggressivo vi consiglio di non usarlo perché non è sicuro al 100 per cento almeno quello che penso io fatelo a vostro rischio e pericolo adesso arriviamo però alla parte interessante perché alla fine pkx viene scaricato ed usato per creare dei pokemon personalizzati ed applicarli appunto nel proprio salvataggio e qui lo faremo proprio da questa funzione active pokemon che qui ci fa vedere il pokemon generato che qui ci dà di default un pikachu e poi qui cliccando questa freccina vediamo tutte le opzioni per poterlo modificare ecco tutte queste funzioni sono praticamente superflue per l'utilizzo medio che si vuole fare e anche il legalize active pokemon non funziona ancora l'ho cercato di testarlo più volte e ancora non ci siamo però alla fine edit active pokemon è la funzione che interessante che andremo a vedere come usare ecco qui possiamo creare il nostro pokemon da zero io per esempio qua sceglierò ovviamente non di meno che un macicarp poi qua possiamo dargli il nickname che ovviamente sarà bob il livello imposteremo 100 ovviamente amicizia qua se volete impostare amicizia al massimo ovviamente dovete mettere 255 che corrisponde al valore massimo poi qua come potete vedere se siete già comunque esperti di pkx ci sono comunque tutte le altre funzioni esattamente identiche che poi qui possiamo scegliere tutti i dati del luogo d'incontro le mosse relative e le statistiche che qua ovviamente gli iv come massimo dobbiamo mettere 31 perché gli iv sono un valore che va da 0 a 31 quindi poi qua possiamo selezionare tutti 31 senza alcun problema invece gli iv sono un valore che va da 0 a 255 proprio fino a pokemon nero 2 se non erro poi dei giochi successivi che sono per 3ds va fino a un massimo di 252 ecco qui per esempio volendo qua differenze pkx possiamo impostare tutti i valori a 255 avremo un pokemon illegale ma lo avremo comunque a priori se lo facciamo da mobile però ovviamente è un po scorretto perché viene un pokemon sbroccatissimo infatti se volete farlo legale gli iv certo possono essere 255 ma la somma di tutti questi non deve superare 510 poi qua ci sono le informazioni dell'allenatore perché pkx conta come se il pokemon generato lo avessimo ricevuto tramite scambio senza però avere i malus dei pokemon scambiati ovvero che se non hai le medaglie adeguate non ti obbediscono queste cose qua quindi molto bene creazione del pokemon l'ho trattata molto superficialmente proprio perché l'ho già spiegata dettagliatamente nel video di pkx che vi ho già linkato in alto a destra ma ve lo lascio anche in descrizione ecco una volta terminato dobbiamo cliccare questa freccina per andare indietro e poi andiamo sotto non cliccate questa freccina se no perderete tutti i dati dovete scorrere giù e io l'ho fatto tipo tre volte questo errore quindi state attenti ecco per applicarlo come si fa se avete notato ci sono delle celle e alcune sono piene e alcune sono vuote ovviamente vorremmo applicare il nostro pokemon in una cella vuota perché se l'applichiamo in una piena il nostro pokemon verrà sovrascritto e quindi cosa facciamo andiamo a fare doppio clic su una cella vuota e poi clicchiamo sul set e qui vedremo il nostro magica che sarà applicato correttamente qui possiamo farlo quante volte vogliamo possiamo farci un esercito di magica tutti identici e vediamo le altre funzioni se clicchiamo una cella piena per esempio di latias e clicchiamo su pop la voce del nostro pokemon generato qui in alto non sarà più magica ma sarà latias con tutti i relativi dati quindi una volta che abbiamo fatto pop se clicchiamo facciamo doppio clic e clicchiamo su set ci applicherà latias avremo clonato poi ovviamente ci sarà la funzione delete che ci permette di eliminare i pokemon creati e questo ragazzi è tutto quello che c'è da sapere sulla creazione di pokemon alla fine perché le altre funzionalità o non funzionano o sono funzionalità pressa poco inutili che per il 99,9 per cento degli utilizzatori non interessa ecco una volta che abbiamo creato il nostro pokemon per applicarlo al nostro salvataggio dovremo cliccare semplicemente export e il nostro salvataggio sarà automaticamente sovrascritto vediamo subito se ciò che abbiamo fatto funziona o vi ho solo raccontato un mucchio di frottole ovviamente quando avviate il vostro gioco pokemon dovrete avviarlo normale in questo modo non ovviamente con i save state per chi li usasse perché fare un save state non equivale a salvare in maniera normale e controlliamo il nostro box per vedere se il nostro Magikarp bellissimo è presente i nostri due Magikarp mi correggo ed eccole qui abbiamo i due Magikarp a livello 100 con strumento Masterball quindi ragazzi abbiamo dimostrato che questo programma funziona e non mi resta che augurarvi buon editing ragazzi spero che questo video vi sia risultato utile se avete qualche domanda vi esorto a farla nei commenti o se è un problema di natura informatica riguardo al tutorial vi invitiamo nel gruppo Telegram delle assistenze dove possiamo seguirvi passo passo per risolvere il vostro problema che trovate in descrizione inoltre trovate anche il canale della nostra community dove rimaniamo aggiornati sulle novità del mondo tech e anche il canale di Zero Universe dove trovate tutti i nostri link utili come il canale Zero Files dove carichiamo i programmi di APK come può essere la nostra guida o anche la nostra pagina Instagram come quella Twitch il nostro server Discord e molto altro ancora io vi saluto ragazzi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti